È stato un inizio di stagione con il segno più per Alghero che, sostenuta dal riavvio dei collegamenti low cost, ha fatto registrare all'aeroporto di Fertilia nei primi giorni del mese di giugno un aumento dei passeggeri che ha toccato quota più 26,6% rispetto al dato pre-pandemia del 2019. Alghero si attesta infatti tra le migliori destinazioni baleari d'Italia, posizionandosi al decimo posto nel ranking top 20 delle destinazioni turistiche dello stivale. Lo ha rilevato lo studio condotto dall'osservatore italiano delle destinazioni turistiche baleari Panorama Turismo Mare d'Italia, pubblicato nei giorni scorsi nella pagina Viaggi Arte di Ansa, che prende in esame le migliori 116 località turistiche italiane e tra quelle sarde Alghero, Arzachena, Villasimius, Pula, Baglia Sardinia, Portocervo, Portorotondo, Sant'Eodoro, Cabras, Santa Teresa di Gallura, Tortolì, Orosei, Budoni e Stintino. Prima delle città sarde in classifica Alghero è preceduta da centri quali Rimini, Capri, Gallipoli e precede Viareggio, Cesenatico, Portocervo, Villasimius. Alghero mantiene alto il proprio ruolo di capitale delle vacanze in Sardegna e compie passi importanti nell'imporsi anche a livello nazionale con politiche attente di promozione e con scelte mirate in ambito ambientale, ha detto il sindaco Mario Conucci. Un posizionamento ha aggiunto l'assessore del turismo e cultura Alessandro Cocco che premia le scelte fatte dall'amministrazione sulla programmazione di eventi fondamentali per parlare a nuovi target e nuovi turisti con uno sguardo al futuro.